Parco degli Iblei, le associazioni reclamano l'istituzione. Le associazioni culturali e ambientali, organizzazioni e imprese chiedono al Governo nazionale l'immediata istituzione del Parco degli Iblei. Il Parco nazionale degli Iblei ormai è giunto alla fase finale della sua definitiva istituzione dopo 15 anni di ita amministrativa e procedurale che ha visto lo svolgimento di tre concertazioni nel 2010, nel 2017 e nel 2019 ancora in corso ma ormai è giunta la fase finale del litro istitutivo la cui lunga fase di concertazione ha coinvolto i 27 comuni compresi nella proposta di istituzione dell'area protetta, i liberi consorzi comunali di Siracusa e Ragusa, la città metropolitana di Catania, la regione siciliana con l'assessorato regionale del territorio e ambientale e le tante associazioni culturali e ambientali molteplici realtà in qualità di portatori di interesse che hanno seguito e sostenuto la proposta istitutiva nella sua fase iniziale e ancora oggi continuano a chiedere il completamento del litro amministrativo di istituzione la istituzione del Parco Nazionale degli Iblei oltre a rappresentare un indispensabile riconoscimento utile alla tutela e alla conservazione di un'intera area dell'altipiano Ibleo compreso fra le province di Siracusa, Ragusa e Catania di straordinaria importanza ambientale, naturale, culturale, archeologica, enogastronomica, etno-antropologica che merita di essere preservata per la sua importante biodiversità e tramandata alle future generazioni rappresenta anche e soprattutto un concreto e nuovo modello di sviluppo che pone le sue fondamenta nel riconoscimento dell'ecoturismo come perno centrale di una nuova programmazione dei territori interessati ponendo al centro come priorità la tutela del patrimonio ambientale, naturale, culturale e del paesaggio verso una fruizione consapevole e responsabile degli stessi con importanti e concreti benefici socio-economici per le comunità locali istituire il Parco Nazionale degli Iblei consentirebbe di avere maggiori strumenti e risorse economiche finalizzate alla tutela, prevenzione e monitoraggio del fenomeno oggi divenuto allarmante con dati sempre in crescita a cui l'istituzione dell'area protetta farebbe scaturire una notevole diminuzione degli incendi nella Sicilia sudorientale anche per il venire meno di eventuale speculazione sui territori interessati per questo e per altri motivi oggi diventa prioritaria l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei a cui chiediamo di procedere riconoscendo sempre di più l'importanza e il valore della biodiversità in Italia e in Sicilia attuando politica di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale del nostro paese Grazie a tutti